agenzia contarini vi presenta la casa di paola ringraziamo mattia sbertelli per la bella foto ritroveremo il cane la bambina in giardino è un immobile cielo terra si trova al centro di voltana all'incrocio tra via gobbi e via fiumato al piano terra troviamo una bella cucina abitabile di ampie dimensioni che è in collegamento con una porzione di immobile commerciale circa 40 metri che venivano usati come tabaccheria possono essere usati come negozio ufficio o convertiti in superficie abitativa al primo piano troviamo una grande cucina abitabile con porta finestra che dà sul balcone la casa è dotata di due grandi balconi uno sul fronte piazza e uno sul fronte del nostro giardino questa è la camera singola una camera di grandi dimensioni con porta e finestra che ci fa accendere al balcone fronte piatta questa è la camera matrimoniale generosa nelle dimensioni con una bella finestra che le dona luce sempre al primo piano troviamo anche il bagno col box doccia al piano superiore abbiamo la zona sottotetto completamente pavimentata e riscaldata utilizzabile come zona letto come zona giochi o studio inoltre troviamo un bagno completamente ristrutturato con doccia e vasca da bagno ed è presente anche una zona lavanderia al piano terra la casa di paola presenta un bellissimo giardino protetto da una bella siepe che ci dà privacy e ombreggiato da alberi di alto fusto entriamo e facciamo quattro passi un angolo delizioso dove leggersi un bel libro o dove la nostra bimba può venire a giocare col suo bellissimo cane a fianco al giardino abbiamo anche un comodo ed ampio servizio questa era la casa di paola in via gobbia voltana riferimento 1197 sul nostro sito www.agenziacontarini.it richiesta euro 110 mila se vi è piaciuta la presentazione è gradito il like seguiteci sulla nostra pagina facebook agenzia contarini sul nostro profilo instagram agenzia contarini e sul nostro canale youtube agenzia contarini ciao a tutti